Sì Bello Tutti qui qua sotto sono Finiti Sì Sono quattro sono Eh no, una a terra Questi qua sono feriti L'altro avvicinato l'ho serrato Così qua lo tirano? Aspetta che lo caricare un attimo Sono messo i malediti eh Eh di lui che l'ho trattata Sei trattata da vicino guarda Dove te l'ho? Oh la mia draffola Oh la mia draffola Ho fatta Oh la mia draffola Oh la mia draffola È troppo forte ragazzi È quando Foglieri a mettere il giudato Lábbvist dachte È L'utente è biondolato Salto E una mini porta Guarda sto pushando questo qui C'è pure un nai di questi qui se potete portarli Vabbè lascio il mitraglione ma Ho lasciato nel m4 verde La cosa con la corsa del cane Ovra Ho lasciato nel m4 verde La cosa con la corsa del cane Ovra Ho lasciato nel m4 E' un po' fight a 105 condotti fight sì sì arrivo arrivo amicus è condotti ok venga vende il cespuglio che codardo qui c'è una dolpeccia blu raga è una torre del pezzo verde non ci chiede non ci chiede non ci chiede ce ne sono altri non ho chiuso il tiro cioè dovrebbero essere segnati si, ma non so dove beh erano atterrati io mi vedo che si sarà sicuro il problema è che si stavano apriando con quello che ho chiuso io a fare come penso minipots per catos per minipots non 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 la c'è la c'è la c'è la c'è sono tutti i washert sono sono tutti i washert, l'età di tutti cazzo e mi ha fatto malissimo buono il bastardo e va fanculo non si è preso la cazzola si non ci credo con le grappole non ci credo di gas o io gli ho fatto male a tutti porca puttana qui avrà fatto tipo un sacco di danni a tutti ci sono medici qui ci sono band e io mini pozza ci sono il sacco di c4 quasi quasi ci sono le mie voci a prendere il c4 ci sono le mie voci a prendere il c4 ci sono i razzi qui ci sono anche muniti di assalto c'è qualcuno a 3, ah no a destra si entri qualcuno che ha appena volato ci sono le mie voci a prendere il c4 ci sono le mie voci a prendere il c4 ci sono le mie voci a prendere il c4 ci sono le mie voci a prendere il c4 ci sono le mie voci a prendere il c4 ci sono gli uccisi di c4 ci sono le voci a prendere il c4 c6 ci sono le voci a prendere il c4 eh 150 altri? si 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 c'è da trovare un altro 75 scudo più o meno c'è palmona che mi ha vici cazzo mia 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 ma è già morto che poi gli avevo già messo il mio amore eh no non lo vediamo mai è difficile capirlo vedo perché entrai nel cubo di un altro cioè puoi mettervi la trappola quando vuole tipo è difficile eh è capisci è capisci che c'è che c'è andato ho bisogno di di te c'è solo band mediti sotto eh band si vuoi scudini o non ci servono non ci sono anche a me no poi sparò pure beh ci sono solo noi nooo adesso ce l'ho vecchia mi sparò via stiamo curandoci stiamo curandoci non me lo fanno mai perchè ci siamo curati esci nooo nessuno danno di caduta abbiamo ammazzato uno qua e poi ci siamo curati sta un ninja dai eh oh my god sai ragazzi gli accetto anche pedane o trappola almeno una tipo oh cazzo non ci credo non ci credo come facevano a saperlo che eravamo qui non lo so c'è stato uno stanno zampando eh ma ora non l'ho video io oh che cazzo ho fatto nooo quando ho zampato fuori dalla mia costruzione non ci credo nooo nooo perchè sto prendendo le cazzo le i maticati sono qui eh nindo io sono... sono un mongolo sì vabbè sono caduto come un mongolo ciao giovanni ho soltato per girare per fare la costruzione non me l'ha fatta sono da dove non ci credo no sono scesi qualcuno è sceso da me mi sento cazzo tanto sta la carica adesso incredibile si si sto morendo gatti non ci credo che ci sia riusito c'è uno a nord spero che non ci vada mi sono nata cali usati troppi fatti gli scodini ok grazie ne ho finiti ehm si ma non ne ho finito credo nessuna su tre tipo ma uno l'ha finito uno l'ha finito quello a nord a nord girare il trampolino dai 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 ahhno dai dai... di nuovo cazzu non so in Greenhurst... mi spiegliare L'ho ucciso, l'ho ucciso Bella, c'è qualcuno qua che ha girato Sì, solo di me c'è qualcuno Se ne sono qua per curarmi Eh vabbè, sono un mongolo Sì, sì, mi faccio Chi è? Dai, non ho niente, non ti grazie Non che cazzo Sì, non ho capito, vai Io ho le mini poze Noi sono qua, non li vedo Noi sono qua, non li vedo Qua, ho lasciato i mini poze Ho lasciato adesso, ho lasciato adesso Arrivo Dove sono quelli? I nemici Oh, oh, oh No, 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 no 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 No, no, no È stato malissimo Tanto, non fatti prendere Cazzo Io ho le bende, dovevi fare meglio Non ho mataccato Oh, che cosa abbiamo vinto, non ci credo, mamma mia che spazzita abbiamo vinto. Guarda che chi era, mi dappertissima. Sì, tipo mi dappertissima. Ma io ho un giudice che ho fatto, io non so. Sì, mi dappertissima. No, io no. Sì, mi dappertissima.